Dopo tantissimo lavoro, dopo praticamente aver conseguito già l'anno scorso un primo premio sempre allo stesso concorso che è il Gavino Gabriel, lo ricordiamo, un concorso nazionale, l'impegno è tanto, è tanto anche perché quest'anno il Corovo Cibianche e l'Unione Araborea ha partecipato presentando tre brani molto difficili. Nell'ordine abbiamo portato Servolan, tratto dal film Le Coriste. Alphabet di Wolfgang Amadeus Mozart E' sempre di Bruno Colais e di L'Ur De Te che è uno dei brani più difficili per il Corovo Cibianche. L'Ur De Te che è uno dei brani più difficili per il Corovo Cibianche. L'Ur De Te che è uno dei brani più difficili per il Corovo Cibianche. L'Ur De Te che è uno dei brani più difficili per il Corovo Cibianche. L'Ur De Te che è uno dei brani più difficili per il Corovo Cibianche. vera contare in amora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.